Nella spigolatura 15 ci eravamo lasciati in visita alle Domus e ai Cenobia umiliati di Monza, presso l'antica porta di Lecco. Da lì ci lasciamo alle spalle il borgo di Monza, potendo scegliere quale strada imboccare. Puntando a nord-ovest, in direzione Lissone, incrociamo la strada di Monza, con la variante di Lissone, verso la Brianza Lecchese. Poco a ovest di Lissone è Codesio, posto lungo la strada di Niguarda, che ci conduce in Valassina. Se puntiamo a nord-est, raggiungiamo invece Concorezzo, lungo la strada di Vemercate. Qui, puntando a sud-est, potremo infine incrociare le strade di Gorgonzola e di Lambrate. Citiamo non a caso queste cinque strade, poiché le comunità di umiliati delle due fage della Martesana, quella di Mezzo e quella denominata della Riva dell'Adda, si trovano quasi tutte, salvo rare eccezioni che vedremo, lungo queste principali arterie milanesi. Segno che lo sviluppo del movimento religioso seguì le direttrici di traffico esistenti, anche per favorire il commercio dei prodotti in lana, con cui gli umiliati non solo si sostennero, ma si arricchirono nei secoli. Ora, dai cataloghi degli umiliati esaminati dal Tiraboschi nel 1766, risulta che nella Martesana di Mezzo esistevano attorno al 1300 ben 30 domus miste, maschili e femminili, e 13 cenobia femminili. Invece nella Martesana della Riva dell'Adda vi erano 26 domus miste e 11 cenobia femminili. Interessante la circostanza che circa il 30% delle case fossero di sole donne, forse perché dedite alla filatura e tessitura di lana. Altro aspetto interessante è la penetrazione degli umiliati nella Brianza oggi lecchese. Infatti, nella Martesana della Riva dell'Adda troviamo, allineate sulla strada di Monza, le due domus miste di Cernusco Lombardone e di Merate, e il Cenobium femminile di Osnago, forse ricollegabile alla chiesa scomparsa in centro paese e dedicata a San Biagio, guarda caso patrono dei Lanaioli. Il medesimo sospetto coinvolge anche Mondonico di Olgiate Molgora, non citato nei cataloghi del Tiraboschi. Qui, nel 1398, esistevano un ospitale di Sant'Agata, Santa Cara agli umiliati, e l'antica chiesa di San Biagio, già esistente nel 1298 e fatta demolire da San Carlo Bonromeo nel 1570. Non lontano da Mondonico, un altro ospitale, che Virginio Longoni attribuisce all'Ordine degli umiliati, sorgeva a Tegnone, odierna Ravellino e paese natale dell'illustre storico milanese Giuseppe Ripamonti. La domus di Cernusco Lombardone, invece, potrebbe essere l'odierna Cascina Moscoro, considerando che in Milano esisteva, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena al Cerchio, una domus di umiliate, detta anche Dominarum Muscarum Decergio, poiché fondata dalla famiglia Mosca, secondo lo storico milanese l'attuale. Se ciò fosse vero, la domus di Cernusco potrebbe essere nata per filiazione dalla gemella milanese. Infine abbiamo per certo che la domus di Merate sorgeva laddove poi fu costruita la scenografica Villa Belgioioso. Passando alla Martesana di Mezzo, vengono citate sei località lecchesi. Vi sono infatti le cinque case miste di Vestetto, Bulciago, Cremella, Garbagnate Monastero e Garbagnate Rota e quindi la casa femminile di Casirago. Nel già citato saggio di Virginio Longoni, pubblicato su Archivi di Lecco nel 1985, la presenza lecchese degli umiliati pare tuttavia ben più radicata, coinvolgendo altre località vicinissime a quelle citate dal Tiraboschi, Oriano di Cassago Brianza, Bulciaghetto, Dolzago, Gaesso di Molteno, Missagliola, Brongio, Oggiono e Olginate. Ma usciamo dal lecchese. Diversamente dal Tiraboschi, che aggrega le case degli umiliati secondo il criterio delle fage, analizziamo ora le comunità citate aggregandoli invece a seconda della strada lungo la quale risultavano iscritte nello Statuto del 1346. In questo modo evidenziamo le divettrici di propagazione del movimento religioso, Monza Collissone, Niguarda e Desio, verso nord, Rimercate e Gorgonzola, Lambrate e Limito, verso est. Pochi numeri sono sufficienti per capire dove si sviluppavano maggiormente gli umiliati. In testa troviamo la strada di Monza con Lissone, cui appartengono 25 delle 80 case umiliate della Martesana, Monza esclusa. Oltre alle località lecchesi si segnalano tre domus miste a Lissone, quindi Desio, Vedano, Biassono, Cinisello, Ronco Briantino e Seignano. Questo è oggi un quartiere ricordato come Milano-Bicocca. Passando ai Cenobi a Femminili ne incontriamo due a Lissone, due a Besana, nelle attuali frazioni di Montesiro e Valle Guidino, e poi a Mugio, a Sesso Stangiovanni e ad Arcore. Segue la strada di Niguarda con 20 case, tenuto conto che la domus di Desio è conteggiata sia per Monza sia per Niguarda, dato che il borgo pagava un contributo in braccia per entrambe le strade. Oltre a Desio vi erano tre domus miste a Cantù con Pianella. E poi due domus a Mariano Comense, due a Caratebrianza, due a Verano e ancora due nell'ordierno quartiere milanese di Prato Centenaro. E infine una domus a Briosco. Per finire i Cenobi a Femminili e uno ben tre a Seregno. E quindi uno a Besana-Brianza, uno a Cantù e uno all'Urago d'Erba. Importante è anche la direttrice costituita dalla strada di Lambrate o di Pioltello, alla quale sono associate direttamente le due domus miste di Pozzolo, chiamate De Pozzolo Intus e De Pozzolo De Foris, e ben quattro Cenobi a Femminili, tre dei quali solo a Pioltello, e chiamate Pioltello De Supra, Pioltello De Subtus e De La Speranza. E il quarto Cenobio è chiamato Sororum De Cassano e si trovava a Cassano Data. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che alla strada di Lambrate erano iscritte le località dell'isola Fulcheria, nell'attuale provincia di Bergamo, ovvero quei territori soggetti a Milano tra la sponda sinistra dell'Adel, Fiume Seria, dove troviamo le otto domus già citate nella spigolatura precedente, la numero quindici, ovvero le domus Major e Minor di Rivolta d'Adda, e poi Vailate, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo San Giovanni, Treviglio e Brignano Geradadda. Sommando le case delle due sponde dell'Adda, si contano quattordici comunità di umiliati sulla medesima strada di Lambrate. Lungo la strada di Vimercate troviamo invece dodici case umiliate, di cui tre solo femminili. Le nove domus miste si trovano a Vimercate, la Domus de Cugnolo e la Domus de Valle, e poi Bernareggio, Icurzio, Colnago, Mezzago, Carvenago Brianza, Caponago e Carugate. Le tre comunità femminili si trovano invece a Vimercate, Oreno e Busnago. Tra le strade in uscita da Milano verso l'Adda vi era quella di Gorgonzola, lungo la quale contiamo sette comunità di umiliati, di cui due solo femminili. Le cinque domus miste sono la costa di Trezzo, al Carubio de Glaxiate, cioè all'incrocio di Gessate, alla Domus de Glaxiate de Inzago, cioè alla casa di Gessate posta dentro Inzago e poi le case di Cambiago e di Masate. I due cenobia femminili erano invece a Inzago e Gorgonzola. A differenza della strada parallela di Lambrate, la strada di Limito appare poco frequentata dagli umiliati. Le domus citate sono soltanto quattro. In uscita da Milano troviamo i fatti Limito, Trinzanese di Rodano, Liscate e Melzo. Discorso simile a nord-ovest. Anche la strada di Dergano, pur vicino a quello di Niguarda, annovera solo cinque domus umiliate, precisamente Meda, Binzago, Senago, Cusano, odierna Cusano Milanino, e Duniano, odierna Paderno Duniano. A dispetto di questa diffusione capillare degli umiliati in Brianza, sono scarsissime le memorie della loro presenza. Sugli umiliati pesano, infatti, la soppressione e la damnazio memorie che San Carlo Borromeo inflisse loro, dopo aver subito un attentato alla sua vita. Ma questa è un'altra storia, amici del bruco.